Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione, rassegna stampa di questo lunedì 9 luglio 2018, buongiorno da Giacomo Bianchi e buon inizio di settimana a tutti. Rassegna stampa che come sempre apriamo leggendo le prime pagine dei quotidiani di Bologna, poi andremo sui nazionali, poi andremo anche sullo sport. Oggi come di consueto ogni lunedì partiamo dal resto del Carlino di Bologna, fotonotizia di prima pagina dedicata a una tragedia che è accaduta nella giornata di ieri, lancio mortale è il titolo, la tragedia Alessio Stipcevic si lancia dalla pietra di Bismantova, il paracaduto non si apre, la telecamera che indossa riprende la caduta del bolognese di 42 anni, la tragedia consumatasi ieri. E poi in primo piano sempre sul resto del Carlino, via delle Moline, Sara Pedonale, il comune faccia in fretta, in autunno partiranno i lavori per riqualificare l'incrocio con via Righi, gli esercenti dicono pronti a collaborare ma speravamo in tempi più rapidi. Nel taglio laterale, sull'Appennino, fungaiolo disperso tra i boschi, ricerche nel corso della notte e poi ancora la polizia, vende droga per strada, tenta la fuga ma viene preso, si tratta di un tunisino di 22 anni, se ne parla all'interno. Nel resto del Carlino di Bologna. E poi il commercio, sono partiti i saldi, partenza sprint per i saldi estivi, più vendite rispetto al 2017, questa è la prima pagina del resto del Carlino di Bologna. Prima pagina anche di Repubblica Bologna, il titolo è Caccia all'immigrato a Forlì con armi ad aria compressa, due feriti in pochi giorni, la consulta degli stranieri lancia l'allarme, dice è razzismo, se ne parla all'interno di Repubblica Bologna. E poi la cronaca, abismantova, paracadutista, bolognese, muore dopo il salto, se ne parla sempre all'interno, a pagina 2, poi la fotonotizia di prima pagina dedicata al passante di mezzo, Donini fiducioso, dice Toninelli, darà retta ai suoi tecnici. L'approfondimento invece a pagina 5. Le voci della città nel taglio laterale, le brevi di Repubblica Bologna, non sempre restaurare è giusto e poi infrastrutture, il sindacato guardi avanti, sulla linea 13 il tram non serve e poi il calcio con la presentazione ieri di Calabresi, il nuovo difensore del Bologna, l'anno scorso al Foggia e di scuola Roma, sponda giallorossa. Andiamo all'interno del resto del Carlino di Bologna, pagina 2, pagina 3, come detto dedicate alla tragedia che si è consumata sul monte, sulla pietra, Bismantova, sfida fatale, è il titolo, vado a fare l'ultimo lancio, guardatemi e poi muore la vittima, un bolognese di 42 anni che era il terzo tentativo di giornata dalla pietra di Bismantova che si trova nella zona del Reggiano. Non riesco a smettere di volare, arte e sport nel cuore di Alessio, è il ricordo, a pagina 3, l'orafo 42enne era sposato e aveva due bimbe piccole, un ragazzo spettacolare, dice il ricordo, preparato e appassionato, il base era la sua vita, questo è quanto si dice di lui. Poi c'è la scheda della persona scomparsa, come detto 42 anni, sposato con due figlie, si faceva l'orafo e aveva il laboratorio in via Podgora, poi nel tempo libero si dedicava allo sport. La tragedia si è consumata appunto nella giornata di ieri. Ancora per quanto riguarda questo aspetto, tempo e spazio sono troppo ridotti, questa disciplina è adrenalina pura, parlare è Paolo Heim della scuola di paracadutismo di Campovolo. Gli atleti sono attentissimi ma a volte basta una folata di vento a complicare tutto quanto, è il pensiero appunto di un istruttore di paracadutismo. Si parla ancora di cronaca perché a sesto la paura per un 74enne bolognese, un fungaiolo si perde nei boschi, ricerche durante la notte. Le squadre del soccorso alpino si sono messe subito al lavoro per cercare il fungaiolo disperso assieme alle squadre dei pompieri e ai carabinieri. Un elicottero partito da Bologna che ha sorvolato la zona. Purtroppo ieri sera l'uomo non era ancora stato trovato ma le ricerche non si sono fermate. Non è escluso che il 74enne abbia perso il senso dell'orientamento e non sia più riuscito a tornare indietro. Nel caso dovesse esserci novità in questo senso ve le daremo. La cronaca a Bologna ancora si parla di saldi, pagina 4 il bilancio delle prime giornate di saldi. Le prime giornate sono un successo, dice Ascom si tratta di una buona affluenza, il bilancio di confesercenti sono stati spesi e verranno spesi 95 euro circa a persona. C'è un tasto dolente evidenziato da Loreno Rossi che dice andrebbe però ripensata la partenza, è troppo avanti rispetto al calendario, ci penalizza dice appunto Loreno Rossi e poi ci sono le fotografie degli intervistati, delle persone che hanno parlato al resto del Carlino. Quella piazzetta si deve rifare, si parla della zona di Via delle Moline, i commercianti dicono subito però la pedonalizzazione, previsti nuovo arredo urbano, pavimentazione e lampioni, tutto questo però non prima dell'autunno. E poi ancora la cronaca, vende droga arrestato, un tunisino di 22 anni e con precedenti ed espulsioni a carico, che è stato arrestato sabato pomeriggio dalla polizia nella zona del centro in piazza 20 Settembre, zona autostazione, dunque stazione ferroviaria. E poi ancora i rifiuti, si cambia, carte plastica in quattro isole interrate, nel centro storico erano per l'indifferenziato, si parte il 16 luglio, da oggi cominciano poi ad essere presenti i tutor sotto questo aspetto che serviranno appunto per facilitare e aiutare le persone. Bomo di turisti a Molinella sulla provincia, il Paese della Bassa si scopre tra i più gettonati della provincia e lo studio che arriva dalla Camera del Commercio per quello che riguarda il Paese della Bassa, appunto, che sta riscuotendo successo tra i turisti. San Lazzaro, Asilinido, sono arrivate le graduatorie definitive e poi dopo la tragedia sulle Dolomiti Granarolo piange Anna Rinaldi, era una persona speciale, il sindacolo Conte portavoce del dolore di un'intera comunità. Questo è quanto riportato all'interno del resto del Carlino di Bologna. Andiamo anche all'interno di Repubblica Bologna, pagina 2, si torna sulla cronaca appunto sulla tragedia che si è consumata nel Reggiano sulla pietra Abismantova, Basejumper bolognese perde la vita a Abismantova. Il giovane si era già lanciato due volte dalla pietra, al terzo tentativo il paracaduto non si è aperto e lui si è schiantato dopo un volo di 300 metri. Nella fotografia Alessio Stipcevic durante un lancio nel vuoto, la foto è tratta dalla sua pagina Facebook, tutto questo appunto nella giornata di ieri. In Appennino un pensionato disperso mentre cercava funghi, a riportare la notizia anche Repubblica Bologna, e poi donna di 54 anni morta in Trentino era scivolata in un canalone, Anna Rinaldi di Granarolo, la tragedia nei giorni scorsi. La cronaca per quello che riguarda la regione, Far West Forlì caccia agli immigrati con le pistola d'aria compressa, due episodi nel giro di pochi giorni, feriti lievemente un ivoriano ed una nigeriana. I colpi sono stati esplosi in strada da un'automobile e da un motorino, c'è preoccupazione in questo senso in comune. A parlare c'è anche Gbeu Diomand, sono episodi di razzismo, non ci sono dubbi, adesso tutti noi abbiamo paura, lui è della consulta degli stranieri di Forlì. Questi fatti si sono verificati nei giorni scorsi. La cronaca per quanto riguarda l'infrastruttura, a parlare l'assessore Raffaele Donini che dice sul passante il ministro ha frenato i faccino rosi a 5 stelle, queste sono le parole di Raffaele Donini, l'assessore ai trasporti della regione Emilia Romagna, che dice dopo sollievo dell'assessore, dopo la mezza marcia indietro di Toninelli, l'assessore dice appunto alla fine i suoi tecnici ci daranno ragione, queste le parole di Donini. E poi ancora la politica, Merola ospita a Bologna i sindaci amici, noi a contatto con i cittadini, i sindaci a confronto al di là degli schieramenti per discutere dello stato del paese. L'iniziativa promossa dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, che domani all'oratorio San Filippo Neri chiamerà a Bologna 5 colleghi da tutta Italia, i civici Federico Pizzarotti da Parma e Alessio Pascucci da Cerveteri, oltre a Riccardo Rossi da Brindisi e idem Valeria Mancinelli da Ancona ed Emilio Del Bono da Brescia. Questo è quello che accadrà nella giornata di domani con l'iniziativa del sindaco Virginio Merola. Come ogni lunedì si parla di analisi e di informazioni su Repubblica Bologna, i dati che riguardano i presenti in Emilia-Romagna, la gente dell'Emilia-Romagna, oggi si parla della paura dei cittadini di subire un reato. Ci sono come sempre gli istogrammi, il confronto con l'Italia. Il titolo riportato da questo dossier è furti in casa, scippi, borseggi e rapine, qui fanno più paura rispetto a quanto accade invece in Italia. Furto dell'automobile si ha più paura in Italia rispetto al dato dell'Emilia-Romagna, 37% contro 35,4%. Il furto in casa in Emilia-Romagna cresce la paura quasi al 70%, in Italia invece è ferma al 60%, lo stesso vale per scippo o borseggio. In Emilia-Romagna i cittadini che hanno paura sono quasi il 50%, in Italia invece la media è del 40%. Per quello che riguarda l'aggressione o la rapina, 46% in Emilia-Romagna, 40% invece in Italia e invece la violenza sessuale, il dato è assolutamente lineare tra il pensiero emiliano-romagnolo e in generale il pensiero italiano con la paura che sale al 28,6%. Nello specifico l'Emilia-Romagna è peggio come paura rispetto a questi paura appunto di subire reati, è peggio solo della Lombardia e per quanto riguarda invece la casa il timore è diffuso, essere derubati nella propria casa è la cosa che fa più paura ai cittadini emiliano-romagnoli. La criminalità preoccupa il 37% dei residenti, invece la percezione in merito al degrado che è meno sentito rispetto invece ad altre zone d'Italia. Questo è il dossier che come ogni lunedì accompagna le pagine di Repubblica Bologna. Andiamo sul sport, l'articolo firmato Luca Bortolotti riguarda Simone De Maggi, dramma e canestri in carrozzina sono rinato dal tumore alle cure a Rizzoli, Simone De Maggi ha perso una gamba ma farà i mondiali di basket in carrozzina. L'intervista appunto di Luca Bortolotti dice la mia reazione quando capì davvero cosa avevo fu di tentare di viverla come un'influenza, poi però puntini 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 le cose sono andate diversamente. Simone aveva scoprì di avere un tumore nel 2008 a 17 anni, giocava nell'Under 19 di Teramo, la sua città natale era compagno di squadra del futuro azzurro Achille Pollonara. Questa è l'intervista riportata dal resto e da Repubblica Bologna. Il Bologna invece, anzi andiamo a vedere prima quello che riguarda il basket, la Virtus, Martelli e Sacripanti vanno negli Stati Uniti per vedere le pari della Summer League e appunto cercare gli americani per la prossima stagione. Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, la Virtus ha prestato Aravenna, Yurka Tam e Rubini, invece sempre in prestito a Crema andrà Gianni Noni, playmaker del 1999. Come detto lo sport e il calcio, il Bologna continua il ritiro di Pinzolo, vi ricordo che tutti i giorni seguiremo con il nostro inviato Filippo Cotti, quello che accade a Pinzolo e nel ritiro rosso-blu, si parla però di nuovi ruoli, come lo titola Luca Baccolini, inviato di Repubblica Pinzolo, Mbaie, Cray, Cirizio e Orsolini con Pippo cambia tutto, questo è il titolo. L'approfondimento è legato anche al nuovo modulo usato da Filippo Inzaghi, il 3-5-2, che ovviamente apre nuovi spazi ad alcuni giocatori che magari si pensava potessero essere sul piede di partenza. Da Streller alla Vanzina il giovane Calabresi sa già stare in scena, ieri è presentato Arturo Calabresi, scuola Roma, arriva da una stagione passata tra Foggia e La Spezia e 22 anni appunto ha fatto tutta la trafila azzurra, è figlio dell'attore delle Iene che debutò al piccolo nell'Arlecchino. Insomma c'è anche una storia di cultura e di spettacolo alle spalle del nuovo acquisto Rosso Blu. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali, questa è la prima pagina di Repubblica che vediamo tra un attimo, partiamo dalla prima pagina del resto del Carlino, il Carlino titola appunto Il Ritorno alla Luce, si parla degli salvataggi che stanno continuando in Thailandia, ieri le prime persone sono state liberate, i primi bambini sono stati liberati dalla grotta nella quale appunto erano rimasti intrappolati qualche settimana fa, ieri quattro ragazzi recuperati dalla grotta, oggi verrà recuperato un altro gruppo. Nel taglio laterale invece l'addio a Carlo Vanzini, il re della commedia, snobbato dai critici, i suoi film Specchio dell'Italia e poi a Napoli. C'è la festa del primario, reparto chiuso, via i pazienti, a pagina 9 si approfondisce questo tema. Missione militare, migranti, lite tra i ministri, la 30 stoppa Salvini e nel taglio superiore, come detto, quello che riguarda Bologna, al paracadute non si apre, il lancio fatale per un 42enne, Alessio Stipcevic era al suo terzo salto dalla pietra di Bismantova e il lancio è stato fatale nella giornata di ieri. Lo sport lo andremo a vedere più tardi con il QS, però in primo piano sul resto del Carlino si parla della doppietta Ferrari a Silverstron, la Ferrari espugna a Silverstron, Vettel sempre più in alto, rossa prima e terza con Raikkonen che chiude appunto al terzo posto. Prima pagina del Corriere della Sera, si parla di politica, Salvini ora stoppa le navi militari, lite con la difesa, caso sui migranti salvati dagli irlandesi. Nella fotonotizia di prima pagina, otto ore per rivedere la luce, l'ambulanza in fotografia che ieri ha trasportato uno dei ragazzi salvati dalla grotta in Thailandia. Ieri sono iniziate le operazioni di recupero dei 12 ragazzi e dell'ora allenatore dalla grotta, otto ore di passaggi nei cunicoli per rivedere la luce, uno dei giovani in salvo però è in gravi condizioni. Nel taglio laterale i miliardi spariti dalle banche della Svizzera, e poi danza sul web, arrestata in Iran, senza velo su Instagram una 18enne arrestata e costretta appunto alla gogna in Iran e poi il ricordo di Carlo Vanzina, i film ironici dell'Italia, morto a 67 anni con il fratello Enrico, ha raccontato 40 anni in costume italiano. Il segretario Martina parla dal congresso del PD, sarà un PD da battaglia, Renzi sbaglia su Gentiloni, queste le sue parole e poi ancora la cronaca nel taglio inferiore del Corriere della Sera. Il primario chiude il reparto per festa a Napoli, pazienti dimessi, medici e infermieri in ferie per il party, la ASL lo sospende e poi la Formula 1, Vettel, trionfo con polemiche in casa della Mercedes. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica Nazionale, la fotonotizia riguarda ancora i ragazzi salvati che si stanno salvando in Thailandia, fuori dalla grotta quattro ragazzi, la pioggia però ostacola i soccorsi. L'ambulanza trasporta in ospedale i primi ragazzi fatti uscire dalla grotta tailandese, rinviato ad oggi il soccorso degli altri otto, questa è la prima pagina di Repubblica Nazionale. L'altro tema trattato è quello della politica, come visto anche su Repubblica e sul resto del Carlino, porti chiusi pur alla flotta UE, ma la difesa sconfessa Salvini. La ministra Trenta dice, orgogliosi della missione, si offre, propone all'Austria un patto anti-Italia, questa è la prima pagina di Repubblica, si parla anche di Formula 1, la Ferrari di Vettel batte Hamilton, primo a casa sua e poi il cinema, Dio Carlo Vanzina, padre della commedia degli anni Ottanta, se ne parla su prima pagina di Repubblica Nazionale. La stampa, in primo piano il muro di Vienna, richieste d'asilo soltanto prima di entrare in Europa. Scontro nel governo sullo sbarco a Messina di 106 persone, recuperate dalla marina militare irlandese, Salvini dice, chiuderò i porti anche alle navi delle missioni internazionali, la difesa però lo stoppa, dice, non spetta a lui prendere queste decisioni. Migranti, la proposta dell'Austria al vertice di Innsbruck, ingressi a chi condivide i nostri valori. E poi ancora Romano Prodi va a parlare, l'ex premier dice in Africa, piano UE-Cina per gestire i flussi. E poi, monito di sala dell'esecutivo, giochi, Milano teme la sconfitta e conta Sol Coni. La fotonotizia è dedicata ancora, come detto, ai primi salvataggi in Thailandia, recuperati i quattro bambini, c'è Saspis invece per gli altri. Nel taglio laterale, Stampa Plus, il manager di Amazon in Italia, 1700 assunzioni. E poi nell'isola di Stalin, dove i deportati diventavano cannibali, in Siberia. E le storie, la torre di Vercelli, meglio di un drone per godersi la città. Questo all'interno di Stampa Plus. E poi, nel taglio inferiore, l'ultimo ciac del principe della commedia, Carlo Vanzina, aveva 67 anni, con il fratello Enrico, ha raccontato i vizi degli italiani. E nel taglio superiore, invece, lo sport. Formula 1, capolavoro Vettel, la Ferrari, trionfa in Inghilterra e brucia. Il padrone di casa è Hamilton. Raikkonen completa il podio con il terzo posto. Si parla di questo anche all'interno, in primo piano, sul quotidiano sportivo. La freccia rossa è il titolo del QS. Vettel trionfa a Silverstone, batte Hamilton a casa sua. E allunga in vetta al Mondiale. E poi si parla di Inzaghi. Il Bologna cambia passo con Filippo Inzaghi. E l'intervista a Luca Toni. Il 2006 potrebbe anche tornare presto. 12 anni fa l'Italia vinceva il suo Mondiale, il ricordo, appunto, di Luca Toni. Il Real Madrid pensa ai Cardi per sostituire Cristiano Ronaldo. L'Inter adesso guarda a Morata. Comincia una settimana cruciale, legata, appunto, al mercato internazionale. E poi Tour de France, Segan beffa col Brelli e si prende tappa e maglia. E poi la Marcord, sempre sul resto del Carlino, quotidiano sportivo. 14 giugno 2007, tutti sul crescentone. La foto, una storia. La Virtus di Markowski andò ad allenarsi per la finalissima in piazza maggiore, ricordo, all'interno del QS. Terra Rossa, pagina 2 e pagina 3 dedicate alla vittoria a Silverstone di Sebastian Vettel che vince a casa di Hamilton e allunga nel Mondiale. Chimi terzo dal 2004 la Ferrari non c'entrava in Inghilterra un doppio podio. Tic tac, tic tac, grandi ragazzi qui a casa loro, grazie, grazie mille. Sono state queste le parole di Sebastian Vettel e la risposta di Arriva Bene che dice Grandissimo Seb, sei un leone. In Superbike si è corso a Misano, invece Rea sempre più inarrestabile. Melandri ritrova podio e fiducia. Decimo successo stagionale per il britannico. Il piloto Ducati dice Una grandissima gara 2, presto torneremo a vincere. Ancora la Formula 1, Hamilton è una furia, loro ci hanno bultato fuori, sono stato colpito alla partenza da una Ferrari. E questo dice tutto, la polemica di Lewis Hamilton che dice Ancora sono due gare che le Ferrari buttano fuori due Mercedes e prendono penalità molto leggere, ma io non mollerò mai. Parla Kimi Raikkonen che dice C'è la terza curva, ho avuto un bloccaggio, ho colpito Lewis, è un mio errore, mi sono preso i 10 secondi e sono tornato a lottare. E poi Maurizio arriva bene, Team Principal Ferrari dice Non ho capito una penalità a Raikkonen, se capita agli altri, dicono che sono incidenti di gara, a noi invece scattano le penalità. La classifica di ieri, come ha detto, primo Vettel, secondo Hamilton, terzo Raikkonen, quarto Valtteri Bottas. Invece la classifica piloti, vede Vettel in testa con 171 punti, secondo Hamilton a 163, terzo Raikkonen, 116. Di fatto rispecchia la classifica dell'arrivo di ieri a Silverstone. E poi ancora la classifica costruttori, Ferrari prima con 287 punti, Mercedes seconda con 267. Con Bottas ieri è arrivato quarto, in classifica generale invece il Valtteri Bottas, quinto, quarto Daniel Ricciardo. Il Real guarda avanti, mercato internazionale, idea ai cardi per il dopo Ronaldo. Milano entra all'improvviso nella trattativa sull'asse Madrid-Torino che ruota intorno al campionissimo portoghese. Maurito, tentazione da 10 milioni, Morata per sostituire il capitano, eventualmente in casa Inter. La clausola è valida fino al 15 giugno, i piani del direttore tecnico Ausilio in casa Nerazzurra. Presto la verità, in riguardo anche a Cristiano Ronaldo, domani il CDA delle merenghe potrà sbloccare la cessione del fuoriclasse portoghese. Oggi si raduna l'Inter, i nerazzurri ripartono dalla Pinettina con già 20 mila abbonamenti, dato anche il ritorno in Champions. E invece il caos in casa Milan spunta Raibo Loblev per il Milan. Lee cerca di convincere Elliot, ma ormai il tempo è scaduto. L'interesse del magnate russo tramite Mendes oggi parte anche il ritiro dei rossoneri. Per quanto riguarda invece il mercato degli italiani all'estero, Balotelli probabilmente diventerà un giocatore dell'Olympique di Marsiglia, lasciando nizza e invece Vieri spinge per Cristiano Ronaldo. Se Ronaldo arrivasse in Italia per tutto il calcio italiano sarebbe come vincere alla lotteria. Arriviamo a parlare del Bologna. Prima di sentire, prima di vedere gli articoli firmati dagli inviati a Pinzolo del quotidiano sportivo, ieri è stato presentato Arturo Calabresi, il nuovo terzino del Bologna. E allora andiamo a sentire le sue parole. La cosa di cui vado orgoglioso è che la società abbia creduto in me e che abbia fatto questo investimento e sono veramente molto contento. Per me è un punto di partenza ma anche un punto d'arrivo perché comunque è sempre stato un sogno per me poter far parte di una squadra di Serie A e adesso poter far parte di una rosa così importante, in una realtà così importante, in una società così gloriosa per me è sicuramente un'emozione unica e sono veramente contento. Sicuramente dovrò adattarmi, dovrò sicuramente avere l'umiltà e la pazienza di aspettare ma mi sento pronto per questa esperienza. Quello che posso dire è che io ho fatto un percorso di tre anni in Serie B che mi ha dato la possibilità di giocare tante partite e di avere un buon bottino di esperienza per poter affrontare questa esperienza con la massima sicurezza e la massima serenità. E sono, ripeto, molto contento e ringrazio di cuore la società che mi dà questa opportunità. Ma non mi piace tanto descrivermi ma penso di essere, come ha detto Marco, un giocatore molto duttile, molto applicato, molto serio nel lavoro, mi piace tanto lavorare e poi, insomma, quelli che sono i miei pregi, i miei difetti lo diranno il campo e mi piace pensare che a queste domande possa rispondere il campo. Sono qui per lavorare, sono qui per mettermi a disposizione con la massima serietà e il massimo impegno. Queste erano appunto le parole di Arturo Calabresi, si parla di lui a pagina 9 riporta l'intervista a Doriano Rabotti Non sono figlio d'arte, viaggia da solo Calabresi, mio papà fa l'attore ma il calcio è tutta un'altra cosa prodotto del settore giovanile della Roma, tanta l'esperienza in azzurro. Negli ultimi tre anni con le maglie di Livorno, Brescia, Spezia e Foggia nove partite nella stagione che si è conclusa lo scorso maggio, tra maggio e giugno in Serie B. Il Bologna in ritiro, altri metodi di lavoro in zaghi, gentilezza e pugno di ferro. Allena come giocava, pause apparenti e guizzi rapidissimi alla scoperta del nuovo mister. Attenzione ai particolari, metodi moderni, oltre a un calcio alla noia, diciamo così. Finora non si è mai visto ripetere lo stesso esercizio in ritiro, ogni seduta cambia programma. I castigli sono all'antica, riporta ancora Doriano Rabotti, chi non riesce a completare l'esercizio o perde pagapegno, come le flessioni per Mattia Destro. E poi le ultime dal ritiro. Pulgari, il primo infortunato di stagione, ha subito un colpo al ginocchio sinistro. Il Cileno sarà costretto a fare lavoro differenziato. Santanderi invece continua in piscina la sua riabilitazione. Giovedì la prima amichevole e l'assegnazione dei numeri di maglia. La scelta, la terza divisa dai tifosi, a breve sarà annunciata quale ha vinto. L'intervista a Luca Toni, 12 anni dopo il trionfo mondiale. Mancini bravo ma non basta, è il titolo del QS, bisogna far giocare i nostri giovani, inutile copiare gli altri. Avete visto cosa fanno Spagna e Germania, dice appunto il QS, riportando le parole di Luca Toni. La Spagna, il CT, il saluto a Hierro, Guardiola o Zidane per la panchina della Spagna e poi Vida, inno all'Ucraina, rischio di squalifica. Il calcio dilettante, Sassomarconi, Moscariello punta un salto di qualità e poi si parla di Axis che giocherà la Serie D l'anno prossimo, l'Axis Zola e della Fortitudo, l'SG Fortitudo pronta a ripartire dalla seconda categoria con la fusione con il Bononi a calcio. Il grande ciclismo col Brelli, Super, Massegan piglia tutto, tappa e maglia gialla allo slovacco, ora Nibali si lancia la riscossa. Oggi la crono a squadre, seconda tappa ieri del Tour de France, giornata di cadute, in terra finiscono la maglia gialla Gaviria e Matthews, prima ancora Adam Yates e Leon Sanchez. Tutto questo nella giornata di ieri, nella seconda tappa del Tour de France, partito nei giorni scorsi. Wimbledon al giro di Boa, Camilla salva il tricolore, la Giorgi oggi contro la Makarov per i quarti. Camilla Giorgi oggi affronta appunto la russa. E poi il basket, Serie A2, la Fortitudo si fa umile, sceglie un profilo basso, nessuna dichiarazione roboante, c'è solo il lavoro, all'appello manca ancora il centro americano. Sfumato l'Ouson, il club non ha nessuna fretta, smentito invece qualsiasi contatto con l'ex Justin Knox. La Virtus continua la ricerca del Regista Staniero, le cifre di Green sono distanti da quelle che sono invece le possibilità bianconere, e poi si parla ancora di mercato, di minors, tra Serie B e Serie C. Le squadre del cuore, come sempre, sul quotidiano sportivo, e poi la calda estate. Bologna si riscopre al top con Warriors e Unipol Sai, guerrieri promossi, i Warriors, storiano in Serie A, la F non si ferma più. E poi, nell'ultima pagina del QS, una foto, una storia. Piazza Maggiore diventa il Palazzo della Virtus, è il 2007, 2.000 tifosi per vedere i giocatori bianconeri lavorare all'alba con il gruppo Sabatini, era appunto la finale scudetto del 2007. Il 14 giugno, la Vunera si allenò sul crescentone, questo è il ricordo nell'articolo firmato Alessandro Gallo. Facciamo adesso il nostro break pubblicitario, a rientro continuiamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani nazionali, le prime pagine dei quotidiani locali, tutto quello che riguarda il quotidiano di Bologna e ovviamente, come ogni lunedì, un'ampia parte dedicata allo sport, a tra poco.